salve a tutti ragazzi allora questo sarà un video dove io vi dirò un qualcosetta perché ho visto che vi è piaciuto molto il video dell'esperimento di angelo vi lascio sotto il link in descrizione e dato che credo che sia una delle cose più belle ho in mente di fare un altro video a tema angelo perciò adesso andremo di nuovo nella posizione salotto quindi direi di iniziare proprio ciao ciao piano di sopra allora siamo nella posizione salotto dove lì c'è il mio fratello che sta giocando alla switch è praticamente immobile quindi lo userò come statuina in questo video comunque ma poi vi dimostrerò anche che non è veramente una statuina che perché siamo sola ora andiamo da angelo che ovviamente vorrà aspettare di fare un altro video ovviamente per allora ho preso angelo che è così tenerone adesso li faremo fare qualche allora questo video non è che sarà proprio uno dove farò fare delle cose cose citate ad angelo perché se l'avevano notato in quell'altro video era così esausto in questo video lo faremo riposare nel modo più attivo possibile ragazzi perché alessandro non si arrende mai allora adesso se guardate più vicinamente ecco di carino vedete si alza la testa vabbè ok non vuole mostrare il video no aspettate vedete com'è carinuccio guardatelo adesso adesso l'avevo disturbato il suo pisolino eterno ma vabbè in un certo senso mi stai riposando anche ora la fotocamera non è il massimo ma noi siamo oltre questo passo adesso perciò adesso il vero tema che vi dirò ora sarà provare se anche quando angelo è così caldo può fare sempre delle cose perciò un attimino che cerco qualche palline ci vediamo tra poco allora sono riuscito a recuperare questa mascherina perché non la userò per una cosa a tema covid questo è il futuro di Ale questa la useremo ammirate ora di qua 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 al rituale di Alessandro questo è così generone no 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 dai ragazzi questo è la cosa migliore del mondo è un gattino così bello che io ho cioè guardate no vabbè adesso si è imbambolato allora adesso questo federone torna a fare il suo riposo eterno e noi ritorniamo alla nostra postazione buongiorno corridoio oh allora è stato una bella mossa direi per questo per questo vorrei un po' parlarvi nel senso che questo video era una dimostrazione perché vi è piaciuto veramente tantissimo quello di angelo ma volevo dimostrarvi il suo lato così tenerone perciò perché io voglio fare tanti video di gattini ma anche gli altri argomenti però se vi piacciono sapete che potete andare sul mio blog il mio uso di Alex Baggs tutto stampatello è su blogger per un sito di google che è molto interessante e beh per questo video è tutto vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirmi su instagram andare a vedere il mio nuovo blog perché ci ho fatto un paio di post e beh noi ci vediamo nel prossimo video miau